Grazie, gentile senatrice. Mi consente questa interrogazione di chiarire un passaggio che è sicuramente molto significativo, che ci occuperà nei prossimi giorni, nei prossimi settimane, mesi. È opportuno evidenziare come il processo di attuazione dell'autonomia differenziata sia previsto dalla Costituzione, sembra scontato dirlo, ma il riferimento è l'articolo 116, che assegna la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario. Conviene anche ricordare, non gioverà, l'ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute dalle forme ulteriori di autonomia. Tutte quelle materie che l'articolo 117, attribuisce alla competenza legislativa concorrente, un ulteriore numero di materie riservate dallo stesso articolo 117, secondo comma, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ovvero organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema dei beni culturali. È poi disposto, come sapete, che le competenze siano attribuite a collegi dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un'intesa fra lo Stato e la ragione interessata. Ricordo che sin dalla redazione del contratto di governo per il cambiamento è chiaramente evidenziato che il percorso del regionalismo differenziato dovrà tenere in considerazione non solo la peculiarità delle realtà territoriali, ma anche la piena realizzazione della solidarietà nazionale, nell'ambito della tutela dell'unità giuridica, di quella economica e dei livelli essenziali dalle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali. In questa fase, come è noto, l'esecutivo sta completando un'intensa e complessa attività istruttoria e di negoziazione, propedeutica alla redazione di un testo condiviso con le regioni richiedenti. Il governo è disponibile ad aprire un confronto con il Parlamento in merito al contenuto di questo progetto, nelle forme che verranno nei prossimi giorni definite nel rispetto delle prerogative del Parlamento. Il governo è ben consapevole della centralità delle Camere nell'ambito di un processo di trasferimento di competenze legislative che assume un rilievo costituzionale e che vede il Parlamento necessariamente e doverosamente coinvolto. Per quanto riguarda la richiesta di definire preventivamente i livelli essenziali delle prestazioni, informo che le bozze d'intesa richiamano al loro interno sia i fabbisogni standard, sia i livelli essenziali delle prestazioni. La definizione dei fabbisogni standard in attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione non riguarda la spesa per l'esercizio delle funzioni delle regioni, bensì la spesa sostenuta dallo Stato nelle regioni per le funzioni oggi in capo allo stesso. Dunque di fabbisogni su indicatori comuni a tutte le regioni si tratterà e saranno definiti da un comitato paritetico composto da rappresentanti delle regioni dello Stato rispondendo a criteri unitari per l'erogazione dei servizi in ogni angolo del Paese. Non è previsto in alcun modo il riferimento ad indicatori collegati all'introito fiscale. A riguardo, nell'ambito delle risorse finanziarie in conformità all'istruttoria svolta dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie con il Dicastero delle Economie e Finanze, posso sindora precisare che 1. Il trasferimento avverrà in base al costo storico, cioè verrà individuato quanto lo Stato spende sul territorio della regione interessata per la specifica materia da trasferire. La determinazione del costo sarà individuata da un'apposita commissione paritetica Stato-Regione. 2. Il costo così individuato sarà trasformato in parte di compartecipazione sui tributi erariali e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio su cui saranno coinvolte le commissioni parlamentari competenti e la conferenza unificata. 3. Le risorse finanziarie allocate dallo Stato nelle altre regioni rimarranno invariate. 4. Entro un anno dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere individuati i fabbisogni standard delle competenze statali nelle singole regioni. Tutte, non solo quelle che hanno chiesto l'autonomia differenziata. A tal fine sarà costituito un apposito comitato paritetico Stato-Regioni, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e rappresentanti di tutte le regioni a statuto ordinario. Posso assicurare che il complesso procedimento che si sta dipanando coniugherà in piena conformità con la nostra architettura costituzionale il rafforzamento sì dell'autonomia regionale, ovvero richiesto, ma con la salvaguardia della solidarietà e della coesione nazionali. Grazie.